e fino ad oggi è sempre stato qui sempre stato in vicolo della campana my father in front of restaurant and grandmother of my father di lei quindi la mia famiglia è qui dal dal 1800 dal 1800 noi siamo la mia famiglia è sempre qui al ristorante il nostro ristorante è un ristorante di tradizione e coltiva la tradizione romana grande distribuzione big mark but small and delle aziende di tradizione le stesse aziende che erano dove dove comprava mio padre quindi mantenere un locale che sia sempre legato il carciofa la giudia per il nostro ristorante e la coda la vaccinara per roma only in roma near roma it's impossible to find e quindi sono molti piatti anche la vigna rola no soap vegetable soup soup with bacon it's only in roma only quindi sono molti piatti e i piatti i piatti che parlano di roma sono i piatti della campana sono la stessa cosa per poter avere un ristorante cucina cose fresche bisogna acquistare coda coda fontana leonesa is a particular country it's very very beautiful for only 2019 Non è un problema, oggi è numero uno. È molto difficile lavorare campana e mayor. È un problema molto per la distanza, in un altro paese. Perché il restaurante e il mayor sono un problema molto, ma ho un staff grande. una grande staffa in Leonesa e una grande staffa in Campana. E così è possibile, solo così è possibile. Con una grande staffa è possibile lavorare in due cose così differenti. Perché essere il proprietario della Campana è una grande cosa, quindi è molto difficile, ma è anche molto bello.